Mentre la priorità in questi giorni resta fermare la guerra e scongiurare una catastrofe umanitaria, ci si incomincia a interrogare quale impatto economico potrà avere sul Piemonte uno scenario di conflitto a lungo termine. Con il paese oggi sotto le bombe, la nostra regione, secondo i dati di Union Camere Piemonte, ha un export che nel 2020 valeva 156 milioni di euro, lo 0,4% di tutte le nostre esportazioni. Diverso il discorso se si guarda verso Mosca. Il valore delle esportazioni sale a 639 milioni di euro, l'1,6% del totale e l'import a 42 milioni. Ma i numeri non devono tranquillizzarci. In un'economia globale interconnessa l'allarme è soprattutto per un blocco dell'interscambio tedesco, 20 miliardi di export all'anno verso la Russia. Le nostre imprese, importanti fornitori della filiera manifatturiera della Germania, potrebbero subire nei prossimi mesi, soprattutto con il blocco all'export di materiale tecnologico verso Mosca, importanti conseguenze. Al di là del problema umanitario di una guerra in Europa che preoccupa tutti, abbiamo il grande effetto che già da alcune settimane vediamo del grande incremento dei costi dell'energia che sta impattando su tutte le imprese, su tutti i cittadini. Questo è una cosa che avrà un effetto molto importante sulla competitività delle nostre imprese. Per ora invece effetti limitati per le banche che operano in Russia. Noi siamo presenti in Russia con la terza banca del paese, per quanto riguarda il mercato interno operando secondo la normativa bancaria russa non cambierà nulla, sicuramente potrebbe cambiare qualcosa per quanto riguarda invece gli interscambi finanziari extra Russia, perciò per quelle aziende che dall'Italia devono andare in Russia. Scenario completamente diverso se la Russia fosse esclusa dal circuito internazionale SWIFT, il meccanismo che fa girare il denaro nel mondo.